Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2 E da lì esce il Twomp Ok, quindi o mi aspetto Sui Koopa No, su questi non sono proprio Koopa No, a parte che devo fare lo Spin Jump comunque sia O mi metto a lato E faccio lo Spin Jump Scusami Ok, questo è perché è 3D World Ecco perché non facevo lo Spin Jump Dico, ma Quindi così mi prendo, ok Dai, dai O devo andare qui sopra No, qui sopra non ci si Colpendo il Martel Koopa, ovvio Eh sì, va bene Torna indietro Torna da me, Twomp Comunque sia, bisogna salire lì sopra Questo oramai è chiaro, no? Eccolo! Ma io ragazzi, sto sudando come un maiale Il che non può essere, visto che i maiali non hanno ghiandole e sudoripare Questo modo di dire è del tutto sbagliato Che succede? Oh no, devo saltare subito Facciamo così, vediamo dove ci porta questo coso Se ci porta effettivamente alla morte Ok, sì, ci porta effettivamente alla morte Si triggera se io vado qua indietro Ok Dovevo aspettarlo Il secondo non era un troll Mentre il primo sì Ok Guarda come faccio ora il livello proprio Di sveltezza Grande E hoppla, via! Ora proprio ho preso, ci ho preso mano Ci ho preso confidenza Quindi devo, insomma, devo No Quindi Dovrò proprio andarci di velocità? Ok, ora aspettiamo questo Vediamo un po' che fa Anche lui fa l'infamata Che si ferma poco prima Ok, non è infame Non è infame Nessun blocco di kaizo Perfetto Bravo Mi sei piaciuto Bravo Ci ha messo il checkpoint Almeno quello Devo riconoscire Questo neanche ci provo Wow Boom boom No Il secondo non è un'infamata Insomma Tre addirittura ce ne ha messi? Sono quattro forse Quanti ce ne ha messi? Io ragazzi quando gioco un Mario Non riesco mai ad aspettare Un platform Non un Mario Cosa è successo lì? Hai saltato come? Ciao Era ovviamente il terzo Andiamo avanti Va Vediamo cos'altro ci aspetta Da questo livello troll Aiuto Oddio ti prego Dovevo aspettarmelo Un po' me l'aspettavo Però dico sai Non sarà troll fino a questo punto E invece sì Vediamo se riesco a sentire L'odore del formaggio Vediamo qui È possibile Non c'è nulla? Cioè È possibile arrivarci Ma poi non c'è nulla? Ora La mia curiosità Cosa mi spinge a fare? A vedere se effettivamente Questo qui Ok questo qui sembra Ahà Ok Ok Ma Scusami Nella lava Nella lava Certo Allora proviamo Ok No Ancora? Oh 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 Ok 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 No Ok Ok Grazie Tuomp Perfetto Perfetto Wow Che è successo? Che è successo ragazzi? Wow Grande Ce l'ho fatta Questo è il potere di Luigi Wow Ce l'ho fatta Comunque sia Questo è il primo livello troll Che riesco a completare Nuovo record 11 minuti e 44 Sono sicuro che saprete fare meglio di me Quindi vi lascio anche lì In descrizione Ve lo metto anche in grafica Se mi va No ve lo metto anche in grafica Comunque sia bello Mi è piaciuto È un livello troll Non classico O meglio È un classico livello troll Ma non quelli classici Tipo che Ti mettono Che ne so Dei blocchi Tre blocchi in fila Però da tutti quanti e tre Quei blocchi Esce il chip chip Che sarebbe il pesce È una cosa che fanno Più che altro Per un altro youtuber Però comunque sia Vengono molto usati E ti meriti il cuore Tutto te lo meriti Steph006 E Complimenti Complimenti Che per questo livello Mi è piaciuto molto Il consiglio che mi ha dato Ora ve lo leggo Quando arrivi sul coso verde Penso sia Cat Mario Devi fare lo spin Però lo spin Forse lui intendeva Il tasto L Perché è un troll No allora Forse intendeva Forse intendeva Il blocco serpente All'ogni modo Ce l'ho fatta Quindi comunque sia Bel livello troll Pensavo di metterci Tipo sai no Cinque minuti massimo Invece è un livello troll Ben fatto Non è solo Un troll così Solo quello lì Che c'era scritto appunto È proprio un troll Intero questo livello Ci ho messo Un po' troppo tempo A capire Appunto La prima strada Ma sapete che c'è Lo rifaccio Vediamo quanto ci metto Ora c'è solo un dubbio Sapete dove andrò Sicuramente a morire Dopo Cat Mario Perché in qualche modo Sbaglierò la strada E con Cat Mario morirò Ecco infatti Ho perso qui la lava Però comunque sia Il tempo stava andando Piuttosto bene Vabbè no Facciamo così Tanto oramai Ho perso la lava Volevo riuscire a farlo In meno tempo Ma vabbè Posso riuscirci Comunque sia Davvero un bel livello Mi è piaciuto davvero molto Ripeto Come quello che ho detto All'inizio video Se avete livelli Che mi volete mandare Fatelo tranquillamente Anche se non sono vostri Non importa Se vedete un livello Magari anche troll Che io li odio Però comunque sia Anche troll Oppure qualche livello Che è visivamente bello Non negli automatici Per favore Perché gli automatici Sono magari belli Ma sono la rovina Di Mario Maker Ce ne sono fin troppi Un decimo Sono livelli automatici E se ne trovano Fin troppo facilmente Quindi Se vedete qualche livello Bello Oppure che lo giocate Anche voi Se mi mandate La richiesta Tipo Anderling Gioca questo livello Che è molto bello L'ha fatto il mio cugino Che però ha lo switch Dentro ad Aracia Allora io dico Ok è bello Lo faccio Comunque sia Non fatevi problemi Allora in ogni modo Cugge Per questo video è tutto Io come sempre Vi ringrazio E ringrazio anche Steph006 Che mi ha mandato Il livello Molto carino Battete il mio record mondiale Che ce la fate sicuramente Come sempre Vi ricordo Che in descrizione C'è il link Per Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye